Buonasera ai nostri telespettatori, benvenuti a questa nuova puntata di un sindaco a bordo. Questa sera siamo al centro creativo Casentino di Bibbiena, insieme con noi naturalmente c'è il sindaco di Bibbiena, Daniele Bernardini, buonasera e grazie per essere qui con noi. Al suo fianco abbiamo Annalisa Baracchi che è presidente del centro creativo Casentino che ci ospita questa sera, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi per essere qui. Alla mia sinistra abbiamo Luigi Bigeri, già presidente dell'Istat, naturalmente Bibbienese e attualmente presidente del polo universitario Aretino. Grazie per essere qui con noi. Ecco, buonasera. E infine Lola Poggi, che è naturalmente Bibbienese e segretario generale del Consiglio internazionale del cinema e della televisione dell'UNESCO. Grazie per essere qui con noi questa sera. Grazie a voi. Ricordo questi due ospiti, premio Dovizi ricevuto dal comune di Bibbiena per i meriti ottenuti nel corso degli anni. Come ogni sera abbiamo Marco Alfonsi che ci accompagna nel corso della puntata, che ci propone alcune delle domande che il pubblico qui presente vuole portare agli ospiti che abbiamo con noi. Buonasera a tutti. Vi ricordo che la trasmissione può essere seguita sul canale 85 del Digitale Terrestre oppure in streaming all'indirizzo www.tsdtv.it slash live. Ricordo inoltre che il pubblico da casa potrà rivolgere domande ai nostri ospiti attraverso le pagine Facebook e Twitter e l'indirizzo email sindacobordo.tsdtv.it Io vi ricordo che un sindaco a bordo è un ciclo di trasmissioni articolato in 20 puntate dedicata ciascuna a un comune diverso della provincia di Arezzo e di Siena. Un doppio appuntamento settimanale articolato il giovedì sera con un talk show in diretta dal territorio come stiamo facendo adesso dal centro creativo Casentino di Bibbiena e il sabato sera alle 21.25 con un reportage realizzato a bordo di un minivan che ha alla guida il primo cittadino, il sindaco che ci accompagna alla scoperta di ciascuno di questi territori. Quindi sabato sarà possibile vedere Daniele Bernardini che ci accompagna alla scoperta del comune di Bibbiena. Io direi di iniziare questa nostra trasmissione con una cartolina che ci propone alcuni degli scorci più suggestivi di Bibbiena qui nel cuore del Casentino e realizzata dal nostro Michele Francalanci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bentornati in studio in diretta dal centro creativo Casentino di Bibbiena. Io chiederei proprio ad Annalisa Baracchi allora di spiegarci che cos'è questa realtà che ci sta ospitando questa sera. Già il nome ci lascia intendere qualcosa. Siamo in un posto bellissimo. Ci può spiegare come è nata l'idea di arrivare a realizzare una realtà come questa e quali sono appunto le sue finalità? Beh, ormai la storia l'abbiamo un pochino raccontata e un po' tutti lo sapete di questa scelta un pochino nostra di famiglia di inventare questo posto. Inventarlo condividendolo perché la prima persona è proprio Daniele Bernardini che è qui accanto a noi e a cui io e mia figlia siamo andati un giorno a raccontargli questa idea sulla falsa riga di quello che esistevano in altri cittadini italiani e europei. Siamo qui. Siamo a un anno e mezzo di distanza con un bel patrimonio, un bel pezzo di strada fatto. Uno spazio nuovo, uno spazio che abbiamo inventato, uno spazio che abbiamo costruito dove forse all'inizio non sapevamo neanche noi questo contenitore che ha vissuto una famiglia come potesse essere riconvertito a vivere una realtà del territorio, a essere un luogo d'incontro, ad essere uno spazio aperto. L'abbiamo chiamato Centro Creativo Casentino perché la creatività comprende tutto, perché culturale era troppo particolare, poteva essere più editario e dentro la creatività c'è uno spazio che si apre a un pubblico non solo di Bibiena, a un pubblico della vallata e la nostra apertura la stiamo dimostrando con gli eventi e gli interventi che facciamo sul territorio e soprattutto proprio questo spaziare per un pubblico aperto, per un pubblico grande, perché qui dentro si fanno iniziative dedicate a bambini più piccoli, si fanno sede dell'Università dell'Età Libera, quindi uno spazio aperto. Creatività vuol dire impegno, vuol dire lavoro, vuol dire incontro, vuol dire trovare per farsi qualcosa, che ha sempre poi deve lasciare un po' una traccia di un risultato positivo, di un passo fatto, di una conoscenza nuova, di un'attività intrapresa nuova nei vari corsi, comunque uno spazio dove si accumulano ricchezze che poi speriamo ognuno di noi di riportarle dentro. Lola Poggi, lei è una cittadina di Bibiena ma cittadina del mondo, ha girato appunto tutto il mondo, ci puoi spiegare di che cosa si occupa e com'è che dopo tanti anni rimane vivo questo legame con questo posto? Certo, non si è mai interrotto il legame con Bibiena e con il Casentino, l'ho lasciato a 22 anni, però sono sempre ritornata regolarmente, perché ero sempre attratta da un mondo più vasto, senza rendermi conto, come diceva il mio babbo che era molto saggio, che spesso andavo a cambiare aria e come diceva Orazio che quelli che corrono per i mari cambiano i cieli ma non il loro spirito, il loro animo, quindi ci tengo molto a essere rimasta fedele. Che cosa ho fatto? Sono sempre stata attirata dalle relazioni con gli altri, in particolare dalle relazioni dette multilaterali, perché il bilaterale non mi basta, quindi sono entrata nell'UNESCO e poi ho continuato a lavorare con le Nazioni Unite. Da un po' di tempo sono in pensione e come quelli che tornano sul luogo del delitto sono tornata a lavorare in un'organizzazione non governativa, perché ora è di moda dire che al di là delle istituzioni ufficiali la società civile deve partecipare al compito dello sviluppo generale, di una migliore coscienza e conoscenza. È un discorso un po' ambiguo, perché in realtà ognuno, sia i governi, sia le grandi istituzioni, si tengono strette le loro prerogative, però la libertà che abbiamo nelle ONG non ce l'avremo mai nelle grandi organizzazioni internazionali. Quindi mi occupo di cinema, di televisione e di comunicazione audiovisiva, in particolare delle nuove tecnologie al servizio dello sviluppo. Quindi i miei poli sono sempre l'Europa, l'Africa, anche un po' New York per via delle Nazioni Unite e ora sto scoprendo l'Asia, credo per questi. Complimenti. Bigeri, anche lei è un cittadino del mondo, la possiamo definire così. Come ha visto cambiare Bibbiena da quando appunto, diciamo negli ultimi due decenni, rispetto a quando magari lei la frequentava assiduamente da giovane e poi dopo? Da giovane ci ho vissuto fino a 25 anni e ho avuto anche difficoltà a iniziare gli studi che pure piacevano. È stata mia madre che ha insistito perché adesso all'università, mio padre aveva una falegnameria con 15 addetti, quindi lui voleva che io facessi, diciamo, capitano di industria, cosa che a me non piaceva come invece ad altri piacciono. E quindi all'inizio ho avuto questa difficoltà, però come spesso ho detto, secondo me la grinta e l'impegno dei giovani casentinesi, almeno di quell'epoca, ha fatto sì che ci spingeva avanti. Ci spingeva avanti, ho incontrato un professore che a quell'epoca era il professor Parenti, che era il presidente dell'Inacasa, e insegnava statistica, ho cominciato a piacermi molto e ho seguito questa strada. Seguito questa strada, continuando a venire a Bibbiena, nonostante che sia stato in Cina, come diceva Lola, oggi a fare praticamente l'organizzatore del primo censimento agricolo cinese con oltre 800.000 persone che vivono nell'agricoltura. E quindi, pur avendo fatto queste esperienze, io praticamente tutti i sabati sono venuto a Bibbiena. Ho calcolato che ho fatto circa 6.000 viaggi a Bibbiena da quando mi sono laureato. Per la consuma, grosso modo, 5.500. Devo dire anche la mediana periodica. Però settimanali, specialmente negli ultimi tempi, quando mio padre, che ha vissuto fino a 98 anni, però aveva bisogno e quindi tutti i sabati necessariamente. L'ha trovata cambiata. Dal punto di vista industriale, certamente sì. Casentino è una bellissima realtà e dal punto di vista industriale, non so se la parola è stata individuata proprio col centro creativo, anche con le industrie che ci sono nel Casentino, ma le industrie del Casentino, quando c'è stata la crisi, sono state quelle che, tra le prime ad essere riorganizzate, ci sono dati disponibili che si possono vedere, e sono state anche quelle che avevano più creatività. Basta pensare alla Miniconfa, ma anche a Aruba, più creatività degli altri. In questo modo hanno retto meglio all'urto della crisi. Non dico che nel Casentino non ci sia stata la crisi, ma se si guardano i dati, la crisi è stata molto meno forte che non, per esempio, nella Valtiberina, nella Valdichiana e addirittura anche nello stesso Arezzo. Quindi credo che questo sia importante. Ho trovato che i giovani, sinceramente lo devo dire senza pensare niente male, mi sembra che siano un pochino meno vogliosi, non dico di andare fuori, di andare fuori sì, tanto i genitori poi pagano, ma voglio dire sì di far strada, e far strada è utile anche al Casentino. Io, sinceramente, per il Casentino non ho fatto moltissimo, se non tutte le volte che andavo a fare conferenze, dire in giro, guardate che io vengo dal Casentino, dicevo vengo da Bibiana, ma poi insistevo sul Casentino, mi perdoni il sindaco, perché io ritengo che la Valle dovrebbe essere un comune unico, lui lo sa. Anche lui mi trovi d'accordo. Per me dire del Casentino non è che era diminutivo, anzi era allargare il campo. E questi giovani forse bisognerebbe che il loro futuro lo studiassero un po' di più, quel centro gli dà lo spazio per farlo. E noi abbiamo fatto anche qualche iniziativa, ora che anche io sono in pensione, ma purtroppo sono presidente anche di altri tre o quattro organismi, e quindi non ho molto tempo, però un po' lo dedico anche al Casentino. Daniele Bernardini, il sindaco, lei passerà la storia per essere il primo sindaco eletto con una lista civica non di centrosinistra a Bibiana. Per chi non la conoscesse, naturalmente qui la conoscono tutti, insomma come è nata questo suo desiderio di fare politica, e qual è anche lo stile che la contraddistingue, è stato anche riconfermato alla scadenza del primo mandato? Ma lo stimolo francamente non lo so, perché si potrà non crederci, ma è venuta veramente per caso questa cosa. Non avevo nella mia mente, nel mio disegno di vita, quello di fare il sindaco. Se non che, mi sa, probabilmente però dentro di me avevo, ho sempre avuto ovviamente uno spirito di rivolgermi al sociale, di tenere rapporti in generale con le persone, e appunto dedicarmi un po' all'attività sociale del territorio, perché comunque sono nato qui e amo questo territorio. Quindi sono stato stimolato da persone, da amici, conoscenti, che più o meno scontenti di quella che era la situazione del nostro comune, delle nostre amministrazioni, che mi vedevano come appunto un possibile sindaco, uno che poteva anche fare qualcosa, cambiare qualcosa, e quindi inizialmente, visto che comunque ho anche un'attività improprio, quindi non troppo tempo a disposizione, la cosa l'ho anche snobbata un po', no? Poi, dopo l'andare del tempo, mi sono accorto che poi la mattina mi svegliavo con questo pensiero, e allora ho detto a mia moglie, mi sveglio con questo pensiero, vuol dire che probabilmente ci penso, vuol dire che è nella mia testa, e forse, siccome io dico sempre che bisogna cercare di non avere rimpianti, io lo dico sempre anche ai ragazzi, ai giovani, qualche incontro con cui parlo, dico sempre, mai rimpianti, se ti viene in testa qualcosa che potresti fare, prova a farlo, poi potrai non riuscirci, ma provaci. E allora, poi cerco di sperimentarlo anche su me stesso, e ho detto, ma sì, proviamoci. Ho avuto la fortuna di incontrare subito, di trovare un gruppo di giovani che hanno creduto in me, e quindi è stato veramente divertente, è stata una cosa, un'esperienza bellissima, divertente, creare questo gruppo, creare la lista, poi probabilmente l'entusiasmo che si è creato intorno a me, intorno a questo gruppo, ha fatto il resto, e ha fatto sì che anche i cittadini, la gente si convincesse, che probabilmente potremmo rappresentare qualcosa di diverso. E così è andata. Dopodiché, l'amministrazione, cinque anni di difficoltà, contrapposizioni con forze politiche, con il resto dei comuni, per idee diverse rispetto agli altri, però comunque dopo cinque anni ho deciso di riprovarci, con una squadra un po' rinnovata, ma comunque sempre con una base giovane, io sono sempre il più vecchio di questo gruppo, e devo dire che sono contento di essere qui, nonostante le difficoltà, è veramente un divertimento. Io dico sempre, augurerei a tutti di provare questa esperienza, di fare il sindaco, in particolare in un comune di queste dimensioni, che penso che sia veramente la dimensione ideale per amministrare. Un comune di una certa importanza, dove comunque ci sono delle risorse, e quindi si può incidere in qualche modo, e comunque nello stesso tempo non grandissimo, e che gli consente di tenere rapporti, di essere un po' in casa di tutti, e quindi siamo qua. Bene, lo ricordiamo, Bibbiena ha circa 12 mila abitanti, capoluogo sicuramente imprenditoriale del Casentino, abbiamo iniziato a conoscere gli ospiti che sono qui con noi questa sera, iniziamo allora a conoscere questo territorio, così ricco, così vasto, con un video realizzato appunto a bordo di un minivan, alla guida il sindaco Daniele Bernardini, e andiamo a conoscere il museo archeologico del Casentino di Bibbiena. Chiacomo di Bibbiena Museo archeologico del Casentino, che ospita i reperti di tutto il Casentino, è suddiviso in diverse sale, la prima, questa dove siamo stati adesso, è dedicata alla preistoria e poi andando avanti si va avanti anche attraverso la storia della valle casentinese, si passa attraverso la sala dedicata agli etruschi, agli insediamenti degli etruschi, che ce ne sono diversi in Casentino, Casentino è propriamente terra etrusca, per poi arrivare a quello che è il cuore dell'esposizione, ossia tutto il tema dedicato alla religione e alla sacralità degli etruschi. Pieve a Socana, con il suo tempio e le decorazioni del tempio che abbiamo qui al museo, per poi arrivare alla parte centrale, a quello che noi chiamiamo di solito il cuore del museo, ossia il santuario etrusco del Lago degli Idoli, che appunto per la prima volta nella storia ospita in una sola località tutti i reperti, o quasi tutti i reperti che sono stati rinvenuti nelle svariate campagne di scavi. Il Lago degli Idoli è un luogo dove sono stati trovati tantissimi reperti, ha anche una storia, non si sa che cosa è vero, cosa non è vero, insomma sono varie teorie su questo. Diciamo che ha una storia molto affascinante, sia dal punto di vista archeologico, ma anche dal punto di vista pubblico, diciamo così, perché innanzitutto è la più grande stipe votiva etrusca, quindi vuol dire il più grande santuario all'aria aperta etrusco mai rinvenuto, ed è particolare perché è un qualcosa di totalmente naturale, c'era questo piccolo specchio d'acqua che gli etruschi veneravano in quanto portatore di sacralità. La storia recente del Lago degli Idoli nasce circa più di 150 anni fa, nel 1838, quando casualmente i primi reperti furono rinvenuti da una pastorella. La pastorella c'è sempre in queste storie. Vennero rinvenuti i primi reperti, si avviarono subito gli scavi ad opera dei proprietari, all'epoca si poteva ancora fare, e i pezzi, più di 650 statuette in bronzo, che furono rinvenute dopo una serie di vicissitudini, furono vendute ahimè all'asta, e di queste 650 soltanto una trentina se ne ritrovano adesso in giro per il mondo, e non in luoghi secondari, ma al Louvre, al British Museum e quant'altro. Passano circa 150 anni, e con un progetto portato avanti dalla soprintendenza archeologica, dal Parco Nazionale, dalle foreste casentinesi ovviamente, dall'allora comunità montana, e con i contributi sia del comune di Bibbiena che del comune di Stia, fu organizzata una nuova campagna di scavo, definitiva. L'obiettivo era sia di recuperare eventualmente quello rimasto, ma poi anche di ripristinare dal punto di vista ambientale il sito. Il risultato della campagna di scavo, del tutto inaspettato, è quello dal punto di vista archeologico che vediamo in questa sala. Ecco, perché non avesse mai sentito parlare questo lago degli idoli dove si trovava? Allora, innanzitutto il nome, il nome un po' forviante, lago, si trattava di uno stagno, e anche quello che è stato ripristinato è uno specchio d'acqua di circa 50 metri, niente di più. E si trova proprio sul monte Falterona, vicinissimo alle sorgenti dell'Arno. Infatti, molto probabilmente, gli etruschi lo veneravano anche perché è considerato la sorgente di uno dei fiumi fondamentali per la civiltà etrusca, ossia appunto l'Arno stesso. Ci spostiamo nella sala dedicata al mondo romano, che ospita probabilmente i rinvenimenti più importanti di quell'epoca che sono stati rinvenuti proprio qui a Bibbiena. Cosa vediamo? Di sicuro Bibbiena era un centro romano, e quello lo sappiamo perché proprio a Bibbiena è stato rinvenuto forse il sito più importante di epoca romana presente in Casentino, che è l'impianto termale di Domo. Domo è una località che si trova ai piedi della collina di Bibbiena, in direzione Soci, lungo la valle dell'Archiano, e questi scavi, che sono cominciati ormai negli lontani fine anni Ottanta, hanno riportato alla luce proprio un impianto termale, le classiche terme dei romani. Gli scavi sono poi continuati, sono ripresi negli ultimi anni, ad epoca di un concessionario di una società archeologica di Roma, che ha indagato le zone vicine e ha trovato altri ambienti. Quindi siamo in attesa di sapere quali altri segreti ci rivolgerà questo scavo. Per di più, proprio qui in Casentino, insieme alle altre realtà museali, che sono tutte di rilevanza regionale come noi, quindi l'ecomuseo del Casentino e il Museo dell'Arte della Lana di Stia, è già un paio d'anni che abbiamo organizzato un progetto, elaborato un progetto, che la regione ci sta finanziando. Quindi è un progetto importante, il primo anno che l'abbiamo presentato siamo arrivati secondi in regione, l'anno scorso siamo arrivati addirittura terzi, e quindi questo porta risorse che permettono una serie di manifestazioni. Le manifestazioni principali che stiamo organizzando, per esempio, in questo periodo, sono legate non soltanto al mondo scolare, che comunque bene risponde alle opportunità che offre il museo, anche grazie al lavoro della cooperativa a cui accennava Daniele, ma è quello rivolto anche al mondo esterno. Quindi sia agli adulti abbiamo una serie di mostre, in questo momento è in corso una mostra di arte contemporanea, monologhi interiori di Enzo Martini, che è proprio un pittore qui di Bibbiena, ne apriremo un'altra a breve, sempre di arte contemporanea, ma poi anche legate al mondo familiare. Quindi già per tutto l'inverno e fino alla fine di maggio abbiamo questa manifestazione che si chiama Domenica al Museo, in cui ogni ultima domenica del mese vengono organizzati dei laboratori per le famiglie in cui possono partecipare sia i bambini, ma poi anche i genitori. Bentornati in diretta dal Centro Creativo Casentino di Bibbiena, abbiamo visto questo primo straccio del reportage che sarà visibile integralmente sabato sera alle 21.25 su TSD, nel canale 85 e streaming. Sindaco, il progetto legato al Museo archeologico a breve verrà anche potenziato perché con l'apertura delle scale mobili alle quali state lavorando oramai da tempo diventerà anche centro informazione e una delle porte di accesso al centro storico di Bibbiena. Tra l'altro avete un progetto molto ampio legato al centro storico, il centro Sifabello. Brevemente ci puoi spiegare che cosa avete intenzione di fare? Sì, abbiamo intenzione di riqualificare il centro storico, che comunque è ancora un centro storico vivo per quanto se ne dica e comunque in questo periodo dove i centri storici soffrono in generale. Noi vogliamo provare a vitalizzarlo ancora di più e renderlo maggiormente accogliente, non soltanto per i bibbienesi ma anche in funzione turistica. Quindi abbiamo un progetto Bibbiena Sifabello, abbiamo fatto un concorso di idee tra giovani architetti e abbiamo premiato tre architetti che hanno sviluppato delle idee che ci sono sembrate interessanti e abbiamo, grazie al nostro architetto comunale, elaborato un progetto complessivo che raccogliesse quelle che ritenevamo le migliori cose espresse nei vari progetti, appunto in questi tre progetti e abbiamo intenzione di realizzarlo naturalmente. Questo prevede una serie di opere sulla piazza in particolare, su Piazza Tarlati e anche dei nuovi arredi urbani su tutto il centro storico. Oltre a questo stiamo lavorando sulle scale mobili, purtroppo siamo in ritardo su questo lavoro perché delle vicissitudini con l'azienda appaltatrice ci ha costretto a fermare i lavori per un periodo abbastanza lungo. Adesso comunque sono riprese, abbiamo riappaltato l'opera e questa scala dovrà essere l'accesso alla città di Bibbiena e si raccorderà il parcheggio di via Santa Maria con il centro storico. La scala arriverà proprio nel giardino di fronte, come abbiamo visto, al museo archeologico che diventerà anche il luogo dell'informazione turistica, quindi diventerà la porta di Bibbiena. In questo progetto è compreso anche una rivisitazione della fruizione dei parcheggi, quindi una razionalizzazione del traffico che prevede per quanto ci riguarda la scomparsa del parcheggio nella piazza Tarlati. Una piazza, ritengo veramente bellissima, che però oggi, francamente piena di auto, non è che gli rende giustizia. E quindi in questo progetto prevede anche scomprare la piazza dalle auto e regolamentare il traffico, e su questo ancora stiamo studiando, per fasce orarie o per periodi dell'anno, in modo che comunque sia accessibile a livello pedonale e maggiormente fruibile tra bibbienesi e comunque anche turisti. Abbiamo visto un video realizzato appunto al Museo archeologico casentinese di Bibbiena. Tanti reperti importanti. A suo modo di vedere, come è possibile valorizzare musei come questo, spesso di un valore importante, ma magari poco conosciuti, poco frequentati, a volte non apprezzati anche dagli stessi abitanti del luogo. Io faccio l'architetto e quindi forse sono abbastanza sensibile a questo argomento, ma credo fondamentalmente che la problematica importante sia non del singolo museo, ma sia il problema di valorizzare il territorio, di cui il museo è un pezzetto importante. Quando abbiamo parlato di cultura e tradizioni, di turismo, credo che sia fondamentale una conoscenza un po' tutto tondo e una conoscenza che spazia quindi dall'arte alla cultura al territorio, ma solo credo con una partecipazione attiva, con una diffusione di quelle che sono queste realtà importanti e non solo a livello locale, perché oggi si parla di rete, si parla di conoscenza estesa. Quindi il singolo pezzo credo che sia molto difficile, al di là che una mostra singola possa valorizzarlo, ma se non riusciamo a parlare di Casentino come di un territorio che abbia un suo completezza, un suo interesse nel valorizzarlo tutto, probabilmente il singolo pezzo rimenterà sempre un episodio importante dove si fanno mostre, dove si trovano reperti di significativo valore come possono essere reperiti in altri musei più importanti come il Louvre. Ma credo che ci voglia una voglia di noi casentinesi, e quando lei parlava prima di giovani, quanto probabilmente oggi a questi giovani forse manca proprio questa aspettativa, questo mordente di cui il professor Bigeri parlava un attimino prima, cioè la voglia di conoscere e apprezzare queste realtà che esistono, se questo si va a cercare cose diverse, cose fuori. Allora la conoscenza di questo territorio e poter avere questa ricchezza di valorizzarlo, sia nella sua rete, sia nel suo complesso, credo sia importante. Di cui questo del museo archeologico è sicuramente un esempio, ma dobbiamo, abbiamo visto un pezzettino dell'inizio di Santa Maria, tanti sono i gioielli di questo territorio. E nel corso della puntata ne vedremo diversi. Altri, e solo in una completezza un pochino più importante, più di conoscenza si può pensare di valorizzarli, di pubblicarli al mondo. Sicuramente una parte di questo lavoro lo fa anche il centro creativo casentino. Il centro ospita tutto proprio, in questo contenitore così indifferenziato, e abbiamo fatto di fatti un paio di trasmissioni dedicate al turismo, dedicate al cibo, ne faremo una dedicata alla cultura. Proprio si fanno delle settimane o dei cicli di film sui pittori, proprio perché sia giovani che meno giovani si è educati un pochino all'arte. Domani mattina c'è la visita al Museo dell'Opera del Duomo, che in Italia è sicuramente uno dei musei più importanti. a Firenze è un museo che raccoglie tutte le testimonianze di arte gotica e rinascimentale a livello italiano, è sicuramente un gioiello che può essere sicuramente apprezzato a tutti i livelli. Abbiamo fatto questo primo viaggio, questa prima gita preparata dalla nostra professoressa e socia che ci segue sulla parte storica, proprio per dire che dà la conoscenza di un territorio, anche conoscere arte, conoscere cultura qui, ma cercare di sensibilizzare a quello che è la valorizzazione di un'opera, di un gusto, di una proiezione e se lo riesci a coltivare dentro poi lo vivi anche fuori. Allora noi andiamo a conoscere una di queste realtà che valorizzano l'arte in questo territorio, abbiamo visto dei reperti antichi, andiamo a conoscere invece dell'arte contemporanea, scopriamo insieme il centro italiano della fotografia di autore che appunto è nato qui a Bibbiena all'interno di un ex carcere. Il centro italiano della fotografia di autore è una struttura che è nata ormai più di dieci anni fa. Lo scorso anno, nel 2015, abbiamo compiuto i dieci anni di attività ed è una delle strutture, delle cinque strutture italiane dedicate alla fotografia, completamente alla fotografia. Ormai in questi dieci anni il CIFA si è ricavato uno spazio importantissimo nel mondo della fotografia, è un punto di rifornimento della fotografia nazionale e internazionale e, come hai detto te, è un fiore all'occhiello di Bibbiena. Cosa significa per voi avere una realtà di un livello così elevato in un centro tutto sommato abbastanza piccolo? Ma è una cosa, è una caratteristica importante. Le altre strutture che accennavo prima sono tutte nelle città importanti, ma in un luogo come questo, che ormai da tantissimi anni ha sviluppato tutta una serie di attività legate al mondo della fotografia e che è diventato un nome riconosciuto, un paese riconosciuto per la fotografia, è abbastanza interessante sviluppare un'attività di questo genere qui. Potrebbe sembrare a prima vista un po' fuori dalle grandi vie di comunicazione e dei grandi centri, quindi non avere quella possibilità di avere molti visitatori, un utilizzo esteso da parte dei visitatori italiani, ma in realtà è diventato un punto di riferimento. Quindi avendo noi mostre continue tutto l'anno, ogni 4-5 mostre durante l'anno, i nostri amici, visitatori, hanno imparato a venire periodicamente a visitare quello che c'è qui, quindi nei passaggi magari da nord a sud fanno una tappa, una piccola deviazione per venire a vedere quello che Bibiana offre. E di più questa realtà piccola come un paese come Bibiana può creare un'identità sulla quale stiamo lavorando e per diventare un punto di riferimento della fotografia, infatti a breve partiremo con il progetto Bibiana città della fotografia proprio per dare questa forte identità al paese, dove si volevano sviluppare altre cose rispetto a quelle che già facciamo qui all'interno del CIFA. Siamo in un luogo anche particolare, fino a pochi decenni fa qui c'era un carcere. Come si è arrivati da un carcere a un luogo d'eccellenza dedicato a un'arte, alla fotografia? Qui siamo all'interno del carcere mandamentale di Bibiana, è un carcere che è stato costruito nel 1860 e è stato in funzione fino al 1981, dopodiché è stato dismesso e abbandonato, è stato per 20 anni abbandonato con varie diatribe per capire di chi era realmente la proprietà, se dell'ente penitenziario oppure del comune di Bibiana. Alla fine è stato definito che era il comune di Bibiana e la loro amministrazione riuscì nei primi anni 2000 a trovare un finanziamento per la ristrutturazione, ma in realtà non c'era una destinazione d'uso, veniva ristrutturato senza un obiettivo particolare. In questa assenza di obiettivo d'uso, diciamo così, ci siamo inseriti noi e abbiamo come Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, che è l'ente che gestisce questa struttura e insieme al comune di Bibiana abbiamo messo insieme questo progetto e in realtà è una caratteristica straordinariamente interessante per questo spazio espositivo perché ogni cella che inizialmente poteva sembrare anche piccola, invece riesce a dare una sensazione di intimità all'utente molto molto particolare ed è apprezzata da tutti quelli che vengono a visitare le mostre, proprio questa particolarità di entrare in sintonia con le opere in questo spazio. Se guardiamo alle opere, come vengono scelte, selezionate, ci sono dei fili conduttori, delle tecniche specifiche? Quasi la totalità delle mostre che facciamo sono mostre tematiche che coinvolgono più autori su un tema ben preciso. In più abbiamo delle rassegne, come per esempio ci sarà quest'anno a settembre, al Biennale Giovani, quindi degli spazi aperti dove davo la possibilità, sotto chiaramente la partecipazione di una proposta, di scegliere l'autore e dare la possibilità di esporre le loro opere. Se guardiamo al futuro cosa vi piacerebbe realizzare? Il futuro è legato molto a questo progetto Bibiana Città della Fotografia. In questo momento il CIFA ha tre ambiti di attività su cui si muove. L'ambito espositivo, l'ambito archivistico, qui dentro c'è un archivio abbastanza importante della fotografia italiana, e l'ambito didattico. L'ambito didattico è l'ambito che secondo noi potrebbe avere uno sviluppo molto importante e per questo l'idea è quella di cercare di mettere in piedi una scuola di fotografia che in fase iniziale si muova su workshop o incontri di breve durata, comunque dai tre giorni alla settimana, per poi vedere se riusciamo a mettere invece le basi di una vera e propria scuola di fotografia, che sarebbe l'obiettivo ultimo. In più nel progetto Bibiana Città della Fotografia c'è un'altra attività che vuole mettere in relazione il centro storico con il CIFA, creando un'esposizione di opere di grandissime autori italiane permanenti all'interno del centro storico, quindi far diventare il centro storico di Bibiana una galleria a cielo aperto che deve mettersi poi in relazione con il CIFA. Noi torniamo in diretta dal centro creativo casentino di Bibiana, abbiamo sentito, parlavamo nel video di Bibiana Città della Fotografia, un ulteriore tassello nella riqualificazione del centro storico, alcune delle cose che dicevamo nell'intervista si sono già iniziate a realizzare. Qual è concretamente questo progetto legato alla fotografia che vuole coinvolgere la città di Bibiana? Sì, diciamo che in questo progetto a cui abbiamo fatto riferimento prima, Bibiana Sfabella, ha partecipato a questo progetto anche il CIFA, è un'attività importante per Bibiana, sicuramente un'attrazione e quindi insieme al CIFA anche loro hanno partecipato a questo progetto con l'idea di inserire in un percorso appunto nel centro storico degli spazi dedicati alla fotografia, degli spazi permanenti dedicati alla fotografia, di modo che anche queste opere rappresentino appunto degli arredi per la città. E oltretutto veramente possiamo essere orgogliosi di questa attività perché è un'attività importante, è un'eccellenza diciamo culturale che ci mette al pari di città importanti, qui effettivamente è una capitale possiamo dire della fotografia e quindi perché no non valorizzarla, non farne anche di questa cosa un motivo di attrazione. Analisa Baracchi, abbiamo visto prima la storia etrusca, romana, il casentino è famoso per le sue pievi, per la sua storia appunto millenaria, come è possibile integrare questo patrimonio con un'arte contemporanea che tra l'altro gode di buona salute come quella della fotografia, a suo modo di vedere. Ma allora, abbiamo visto intanto contenitori oltre che contenuto, abbiamo visto l'esempio di un carcere che è diventato uno spazio espositivo, siamo in una sala di un'abitazione dove siamo a fare un evento e quindi già questa possibilità di utilizzare gli spazi, perché l'arte contemporanea è anche il modo di come si vivono le espressioni contemporanea, non sempre arte è tutto, arte è un'esposizione, anche arte è un momento di vita, un momento di conoscenza, di incontro. Sicuramente il valore del territorio è un valore che ci portiamo dentro e che quindi ci pone a poter fare progetti. La progettualità è già un momento di arte e quindi la contemporaneità credo che debba risentire sicuramente di questo patrimonio che abbiamo e perché no nel progetto di Città Bella, ma nel progetto di ognuno di noi, nel progetto delle strade, delle piazze, c'è un disegno sicuramente che porta i ricordi degli etruschi, i ricordi del rinascimento, ma che porta anche la voglia di vivere, la voglia, la necessità di spazi nuovi. Quindi in questo percorso di arte e di valorizzazione del territorio sicuramente ci sono spazi grossi se riusciamo a trovarli dentro di noi, se riusciamo a tirar fuori questa voglia di rinnovare il territorio, rinnovarlo con esperienze alla luce di attività, di incontri, di sicuramente situazioni che fanno della modernità la nostra storia della vita attuale. Abbiamo parlato di arte, di storia, di cultura, di questo territorio con le radici così profonde nel passato, ma abbiamo detto anche un territorio che è la locomotiva, possiamo definirla così, del Casentino, con una fortissima vocazione imprenditoriale e industriale. Noi andiamo a conoscere una realtà che è nata circa 20 anni fa e che adesso è diventata leader in un settore fortemente innovativo, ovvero andiamo a conoscere l'esperienza di questa azienda che si chiama Aruba. Aruba è un hosting provider. Che cos'è un hosting provider? Siamo quelli che ospitano i siti web, le caselle di posta elettronica che poi il normale utente va a vedere o a utilizzare su internet. Quindi quando qualcuno va a vedere un sito web dal proprio computer al proprio telefonino, c'è un'azienda da qualche parte nel mondo che ospita in dei grossi computer, che si chiamano serve, questi siti web. La stessa cosa è per le caselle di posta elettronica. Quando uno utilizza la posta elettronica dal proprio computer o dal proprio telefonino, si collega a un serve, che appunto è un grosso computer, che sta in delle strutture come quella dove ci troviamo oggi, che si chiamano data center. Quali sono le caratteristiche tecniche anche di questo data center? Quanti dati sono contenuti qui all'interno? Quanti siti permettete di rimanere online? Anche quanta energia ha bisogno questo impianto per ciò? Certamente. Beh, allora, questo è un data center che è assolutamente di eccellenza, che risponde alle normative nazionali ed internazionali più elevate, sia dal punto di vista della sicurezza dei dati, sia dal punto di vista della cosiddetta ridondanza, della cosiddetta disponibilità dei dati e dei servizi. Questo è un data center che può ospitare sostanzialmente 20.000 server, grosso modo. Un data center da oltre 20.000 server, quindi comunque è un data center tra i più grandi che ci sono sicuramente in ambito italiano, ma è anche importante in ambito internazionale. Cosa ha significato per voi partire da una realtà piccola come quella della frazione di soci nel comune di Bibbiena e arrivare poi a avere una dimensione così grande? Come è stato anche possibile? Beh, allora, questo sicuramente è stato possibile grazie alle persone, alla proprietà, che l'azienda è nata a soci perché appunto i proprietari sono originari di soci e tuttora comunque vivono a soci e l'azienda ha la propria sede principale a Bibbiena. Chiaramente questo non è che debba essere né un problema né altro, il fatto di essere partiti da soci perché sicuramente poi l'azienda è partita da lì ma poi si è allargata in ambito appunto nazionale, internazionale. Ecco, tra l'altro lei non è originario di questo territorio, è venuto a lavorare qua, da fuori, è cresciuto possiamo dire anche con l'azienda. Sì, io sono qui dal 2005, quindi Aruba in realtà esisteva già da un decennio perché Aruba appunto è nata come piccolo internet provider, quindi a metà degli anni 90 Aruba con il nome TechNet in piazza Garibaldi a Soci era una piccola realtà che offriva la connessione ad internet con il modem, quindi sicuramente chi ha qualche anno già si ricorda dei tempi in cui c'erano i modem con cui ci si collegava l'internet e Aruba diciamo, o almeno l'azienda che poi è diventata Aruba è nata in questo modo a metà degli anni 90. Nel 2005 quando sono arrivato io già avevamo il primo data center qui ad Arezzo che c'è tuttora, che è tuttora in attività e poi invece questo data center che ci troviamo ora è stato aperto nel 2011. Una curiosità, come fate a competere con giganti che magari stanno in America piuttosto che in altre parti del mondo? Siamo bravi. Come facciamo? Il fatto di essere che questi giganti appunto siano in America è perché chiaramente il mercato americano è nato prima, il mercato di internet, della tecnologia americana è anche un mercato molto più ampio sicuramente, però dal punto di vista tecnico sicuramente Aruba non ha nulla che invidiare a questi giganti americani che abbiamo nominato e appunto in ambito italiano siamo l'azienda leader sicuramente e siamo tra le principali aziende anche a livello europeo. Una realtà come questa necessita anche di grandi quantità di energia? Voi molto avete scommesso anche sulle energie rinnovabili. Assolutamente, allora questi i nostri data center utilizzano al 100% energia prodotta da fonti rinnovabili e di questo appunto abbiamo i relativi certificati che lo attestano. In più ovviamente una delle cose che bisogna sempre cercare di fare non è tanto solo di produrre l'energia dalle fonti rinnovabili ma anche di utilizzare nemmeno possibile. Quindi ad esempio in questo data center utilizziamo serve ad alta efficienza che quindi consumano poca energia e in più per Dali che è una delle cose che utilizzano più energia dentro un data center utilizziamo per la maggior parte dell'anno sostanzialmente l'aria direttamente proveniente dall'esterno opportunamente filtrata e questo permette di avere un data center quindi che consuma poca energia che questo ovviamente va a vantaggio sia del portafoglio che dell'ambiente. Io direi che quella che abbiamo visto poco fa è una bellissima storia italiana e ne stiamo conoscendo veramente tante nel corso di questo ciclo di trasmissioni di un sindaco a bordo, delle aziende leader nel proprio settore nate spesso da realtà piccole, marginali, magari anche con infrastrutture inadeguate oppure con una pubblica amministrazione non sempre efficiente. Allora io chiederei al professor Biggeri cosa rende diversa l'Italia dagli altri paesi? Spesso se ne parla male di questo paese ma quando vediamo realtà come queste che in mezzo a mille difficoltà riescono ad affermarsi vuol dire che c'è qualcosa di diverso nel nostro paese. Beh qualcosa di diverso c'è, io voglio rifarmi invece a quello che è successo qui, permetta che tanto poi uno specchio anche nell'Italia forse in maniera migliore rispetto a quella che è la situazione italiana. Cioè qui ci sono state e ci sono tuttora dei giovani che hanno idee che come è stato detto prima le vogliono realizzare, fanno dei programmi e cercano di perseguirli in tutti i modi in modo da essere conosciuti nella zona e nel mondo. Basta pensare non solo alla Ruba che certamente è tra questi ma anche alla Baratint. Io siccome a quell'epoca ero già nato e quando Pino Baracchi è venuto qua a fare le prime stabilità c'era un'idea, l'ha perseguita fino in fondo, i fratelli insieme hanno lavorato e hanno costruito tutto il patrimonio, il patrimonio diciamo così di produzione per tutto il territorio e anche per la nazione certo, anche per la nazione. Questo significa che se le idee ci sono, se i giovani cominciano ad avere una visione di quello che vogliono fare del Casentino e di Pibbiena perché se non ci pensano, pensano solo a studiare o magari invece a giocare fino a che sono grandicelli eccetera, queste idee non vengono. Però se vengono si può dimostrare che il rendimento che ottengono è molto superiore. Prima l'ho appena accennato, ora posso essere anche un pochino più preciso. Queste imprese che ci sono nel comune di Pibbiena, perché ci sono anche dati comunali oramai, l'Istat produce anche dati comunali, cosa che fino a un anno fa non venivano prodotti, questi dati comunali mettono in evidenza che c'è una capacità organizzativa notevole, che penso è di Pibbienesi, permettetemi di dirlo, è di Pibbienesi perché questa capacità organizzativa viene messa in evidenza dal fatto che hanno pochi investimenti in media, ora la barattetta ne ha molti di più, ma pochi investimenti in media e invece ottengono una produttività del lavoro molto elevata, molto più elevata di tutti gli altri sistemi locali del lavoro dell'Italia, della Toscana scusate, c'è solo Montevarchi che ci supera ma poco e quindi voglio dire siamo in una posizione molto rilevante. Ma anche dal punto di vista dell'indebitamento, certamente c'è l'indebitamento anche di queste piccole imprese, però l'indebitamento dà luogo ad una maggiore produttività perché sono bene organizzati, il capitale investito dà luogo ad un maggior reddito operativo e quindi vuol dire che le idee ci sono e le capacità di realizzare queste idee anche. Ultimo passaggio perché mi chiedete come va l'Italia o come vanno le piccole imprese? Le piccole imprese hanno messo in evidenza, come anche si può vedere con facilità, che durante il periodo di crisi c'è stato un miglioramento e non un peggioramento, o perlomeno hanno mantenuto gli stessi livelli, piccole imprese fino a 50 addetti, non quelle piccolissime che hanno anche chiuso purtroppo. Però questo ha dato luogo al fatto che sostanzialmente il tasso di disoccupazione che in Italia è arrivato al 12%, in Casentino al massimo è arrivato al 7%. Non è banale, non è lo 0,1% più o meno, ma sono percentuali molto rilevanti e questo fa sì che, almeno a me, fa bene sperare, perché tra l'altro questo consente anche alle banche che volessero investire sul territorio, c'è un territorio che merita dal punto di vista economico, c'è un territorio produttivo che merita. Vorrei chiudere, se vuole, non chiudere, ma dire un'altra cosa perché a me sembra che, a parte l'economia, Casentino e Bibbiana ha tante altre bellezze. È chiaro che lei fa le domande, soprattutto a coloro che si occupano dell'architettura, però io tutte le volte, come ho detto prima tante volte sono venuto a Bibbiana, mio padre mi faceva andare in giro con la macchia, era ora obbligatorio, ogni sabato pomeriggio dovevo fare… Laceva il sindaco a bordo antelittera. Ogni sabato pomeriggio dovevo fare almeno 30-40 km per il Casentino, cominciando prima da Bibbiana, esplorando anche le singole strade, c'è delle bellezze incredibili, mi diceva, lo vedi questo? Cosa va a fare in Cina? Lo vedi quest'altro? Cosa va a fare a New York? Obiettivamente, devo dire che spesso non avevo da rispondere con facilità, spesso non avevo da rispondere con… e ma tutto, perché tutte le volte sono venuto, tutti i sabati, voi immaginate, tutte le montagne, proprio tutti i luoghi, il lago dell'Igoli, tutto, tutto, quindi permettetemi di far sì che, forse come visione anche questa per i giovani del Casentino non è da buttare via. Un bagaglio culturale che è condiviso, che diventa di questo territorio. Le volevo fare un'altra domanda, perché spesso il problema di queste aziende, che sono così grandi e hanno le radici sul territorio, è la difficoltà di avere accesso alla mano d'opera qualificata. spesso ci sono aziende che cercano lavoratori di un certo tipo e non le trovano. In questo ambito, a suo modo di vedere, in questo territorio, cosa è possibile fare? Questo territorio non sviluppa abbastanza, mentre ho detto molto bene per quanto riguarda l'economia, non sviluppa abbastanza le capacità intellettuali dei giovani. Non so se sono solo giovani che non le vogliono sviluppare o se è un problema anche familiare o generale del territorio. Basti dire che coloro che vanno all'università, ci sono ostacoli per carità, ci sono ostacoli logistici, ci sono ostacoli di trasporti, ci sono ostacoli di pagamento, quindi difficoltà finanziarie. Però le vanno il 10% in meno rispetto alle altre zone, per esempio, della provincia di Arezzo e addirittura il 15% in meno all'università di giovani che si sono diplomati rispetto alle altre zone d'Italia, della media italiana. E questo è incredibile, perché fra l'altro invece sono tra coloro i giovani di Bibbiena, ma anche del Casentino, che hanno delle votazioni medie molto elevate alle scuole medie superiori. Allora, io non riesco a capire come questi giovani, ragazzi e ragazze, che sono bravi e poi dopo un certo momento perdono questa capacità di iniziativa, questa voglia di studiare. Le aziende in parte le accoparano subito, ma in parte no, perché fanno anche percorsi scolastici che alle aziende servono meno. E magari così vanno all'università a Firenze, vanno a Siena, vanno a Arezzo, però i risultati poi non sono quelli che dovrebbero essere. Questo mi preoccupa, perché i giovani dovrebbero essere stimolati anche dalle famiglie a fare dei percorsi che poi danno luogo a possibilità di lavoro più concrete, perché la mancanza di offerta, di mano d'opera, effettivamente è una cosa che non va bene, perché lascia poi, come si sente dire alla televisione, tanti giovani che non studiano, non lavorano e praticamente non fanno nulla, neppure cercano lavoro. Si vede che questo è un tema che la appassiona molto, lei infatti è impegnato anche nel Polo Universitario Aretino, c'è un corso a distanza con il Politecnico di Milano, il Comune di Bibbiena, in un periodo anche di crisi, possiamo dire, del Polo Universitario Aretino, molte istituzioni sono uscite da questa realtà, il Comune di Bibbiena invece ha deciso di aumentare la propria partecipazione all'interno del Polo Universitario, sempre in un periodo di tagli e di bilancio, quindi è una scelta coraggiosa la vostra? No, coraggiosa, non è che ci siano serviti investimenti importanti, però secondo me è una scelta per un'idea, nel senso che come diceva il professore, pochi, una percentuale più bassa rispetto alla media nazionale di casentinesi frequentano l'università. Sicuramente tra i motivi c'è la logistica, la necessità di dover spostarsi con la necessità di prendere in affitto degli appartamenti, quindi dei costi e il Polo Universitario Aretino sicuramente rappresenta un'opportunità in più anche per i casentinesi, per i ragazzi che magari di famiglie che possono avere difficoltà appunto a spendere delle cifre mensili per mantenere figli in varie città italiane, un'opportunità appunto per frequentare dei corsi in università vicino a casa e anche appunto tramite l'accordo con il Polo, con il Politecnico di Milano anche corsi di livello, quindi chiaramente la presenza anche del professor Bigeri come presidente del Polo Universitario ci ha anche chiaramente stimolato e ci ha dato una certezza della qualità di questa istituzione e per questo abbiamo fatto la scelta di incrementare le nostre quote, abbiamo acquistato delle quote di partecipazione che venivano dismesse da altri comuni della provincia e di questo francamente siamo fieri. Vorrei dire una cosa su questo? Volevo aggiungere a questo che diceva il sindaco Bernardini, cioè in realtà io quando sono andato in pensione, proprio perché come ho detto prima ho lavorato poco nel Casentino a Bibbiena, mi è venuto l'idea di fare qualche cosa anche per i giovani appunto del Casentino come della Valtiberina e di altre valli che avevano queste difficoltà di collegamento con l'università. E perché ho scelto il Polo Aretino che si occupasse di ingegneria informatica? Questo credo sia abbastanza evidente, le aziende che ci sono, prima ne abbiamo viste una, l'informatica e l'information communication technology sono all'avanguardia. Ma non basta, perché oramai come sanno molti imprenditori, la tecnologia informatica ha rivoluzionato il modo di lavorare delle imprese, quindi è uno dei fattori cardinei del lavoro delle imprese. Non è come diceva forse prima a passare lei che il corso di ingegneria informatica sia un corso a distanza, tutt'altro, è un corso con docenti, proprio stamattina abbiamo fatto delle riprese televisive dove ci sono docenti e studenti, che presenta molti vantaggi. È un corso che è anche online perché non si può aprire un corso universitario senza avere dietro un'università che vuole spendere. Non potendo aprire un corso universitario che vuole spendere, siccome io sono anche presidente del nucleo di valutazione del Politecnico di Milano, chiese al rettore del Politecnico di Milano di poter utilizzare quel canale, così si poteva aprire il corso ma poi le lezioni si fanno noi, io no, ma si fanno i giovani, le lezioni fanno i giovani e il vantaggio grosso è proprio poter seguire corsi di qualità, sono tutti giovani molto motivati quelli che fanno lezioni, quasi tutti. I ragazzi possono seguire le lezioni e se non hanno capito, ecco l'online, se non hanno capito se lo rivedano la sera online o il sabato. Quindi la qualità aumenta nel senso che anche coloro, lo riconosco, coloro che sono venuti lì a seguire le lezioni magari non preparatissimi, piano piano invece sono diventati bravi. Addirittura stanno facendo, ancora non sono al terzo anno, stanno facendo degli esperimenti, costruiscono delle cose. E poi ci sono alcune eccellenze come in tutte le università che prendono tutti i 30 e 30 lode, tra l'altro uno li stia, quindi voglio dire anche... E Aruba in questo ci sopporta molto, Aruba ovviamente essendo interessata ci sopporta molto, dà delle volte di studio, ma guarda caso quest'anno per quelli di Bibiana nessuno ha fatto domanda per prendere la volta di studio, nessuno. Proseguiamo allora, il nostro percorso all'interno del comune di Bibiana andiamo a conoscere una delle realtà che sicuramente hanno contribuito con la sua presenza a questa cultura del lavoro qui presente, ovvero scopriamo insieme questa realtà, quella della villa, la mausolea. Per spiegare di cos'è la mausolea occorrerebbe un giorno intero e poi non basta. Comunque è un fattoria, non è mai stato un convento, è sempre stata una struttura al servizio dei monaci camaldolesi, perché a differenza di altri frati i monaci camaldolesi lavorano per poter vivere e per poter aiutare il prossimo. Questa è una cosa un po' diversa, pertanto qui è sempre stata una fattoria dove di fatto prima che arrivasse le nuove leggi e i nuovi tempi c'erano i poteri, i contadini e portavano tutti qui alla mausolea il suo prodotto e qui si svolgevano tutti i raccordi delle lavorazioni. Ora il mondo è cambiato e di conseguenza la fattoria si occupa direttamente da tutte le lavorazioni del territorio, compreso anche l'iniziativa dell'attività agroturistica che alcuni fabbricati sono stati adattati a fare un turismo, un agriturismo più economico delle grandi russosità. Quindi cosa viene prodotto qua? Noi qui produciamo cereali e abbiamo un allevamento di bovini, più abbiamo una vignetta di 10 vigneti dove stiamo facendo dei grandi vini perché la storia, perché poi abbiamo le cantine che lo dimostrano, è dal 1100 che qui viene prodotto il vino, viene prodotto il vino con delle tecniche caratteristiche molto avanzate. Per esempio, brevemente, le tecniche? Le tecniche del passato vengono applicate sulla genuinità, la prima cosa, e sull'attività biologica, perché questa è un'azienda biologica e l'uva che produciamo è tutta biologica. Questa è tornata ai monaci a seguito di un benefattore, perché quando lo Stato requisì tutti i beni ecclesiastici di tutte le strutture, ai monaci prese tutto. Tanto è vero che Camadri non è dei monaci, ma è dello Stato, perché requisirono tutti i patrimoni, Camadri, Lerbo, le famose foreste, tutto quello che era il patrimonio, compreso l'edificio di soci, oltre 2.000 lettre di terreno, fu tutto requisito dallo Stato e ai monaci su gli ha lasciato un contratto di affitto, loro sono in affitto, il resto fece dei lotti, ha venduto a lotti tutto quello che era il patrimonio. che qui, già nel 1300, c'erano dei sistemi idraulici per l'alimentazione dei mulini, dell'anificio e così via, che è il più avanzato che poi potete notare. Qui noi facciamo tutto all'insegna del rispetto dell'ambiente, del rispetto della natura e nell'interesse del consumatore. Come mai, a suo modo di vedere, è così poco conosciuta questa realtà, quella della mausolea? Perché i monaci pensano a pregare, a stare nel suo habitat, lavorare e fare delle cose buone senza essere molto divulganti delle cose che fanno. E tanto qui ci abitava un monaco, che si chiamava il Camerlengo, che aveva la responsabilità di tutto, di gestire tutto il complesso. Lì ci sono le sue stanze, l'ufficio delle sue stanze. Lì c'è la cucina, dove tutti i giorni non meno di 50 persone lavoravano qui e quando erano qui mangiavano e stavano qui. Oggi più o meno quante persone lavorano qua? La scelta che io ho fatto, perché sono pochi anni che sono venuto qui, soltanto 5 anni, sono venuto a dare una mano ai monaci per vedere di risollevare questa azienda. gli operai ne abbiamo a seconda delle necessità, è al momento che abbiamo da fare le lavorazioni. Tanto quando si vendemmia sono di più, o lazialmente sono di meno. Ho fatto anche una scelta di giovani e di donne, perché ho dato risalto anche alle capacità femminili, tanto è vero che la responsabile di cantina è una signora molto brava e che già sta dando degli esempi molto importanti. Tanto la nostra volontà è quella di, le cose buone, il palazzo e tutto il resto, di renderli di dominio pubblico. e poter, perché apriamo a gruppi, a studenti, alle scuole e poi a tutti coloro che vogliono passare un momento tranquillo, facendovi visitare il palazzo e facendovi degustare anche i nostri vini. Che sono molto buoni. Non spetta a me dirlo, però abbiamo dei vini veramente buoni. E abbiamo anche la tradizione, perché qui si parlava del famoso vinsanto della mausolea, conosciuto da tutti. Oggi non lo possiamo chiamare più vinsanto per ragioni geografiche, che hanno chiuso il circuito del vinsanto a Subbiano. Allora noi lo chiamiamo passito. Bentornati in diretta al Centro Creativo Casentino di Bibbiena. Mentre vedevamo questo filmato, ma anche quando lo registravamo, il sindaco ci confermava della bontà di questo vinsanto realizzato alla mausolea. I monaci camaldolesi sono coloro che hanno coltivato le foreste casentinesi. C'è anche una proposta recente di inserire la riserva di Sasso Fratino all'interno del parco nazionale delle foreste casentinesi, che interessa anche il comune di Bibbiena, anche se la riserva non è all'interno del comune di Bibbiena, di farle arrivare appunto a patrimonio dell'umanità, a patrimonio dell'UNESCO. Allora io chiederei alla dottoressa Lola Poggi, insomma, come commenta questa ipotesi e quale valore potrebbe avere anche in un'ottica di sviluppo sostenibile per il Casentino. L'idea in sé mi pare molto valida perché il luogo è molto bello. D'altra parte vorrei anche esprimere qualche riserva su queste famose convenzioni dell'UNESCO, che sono state un pochino troppo sfruttate e sono diventate una specie di, non dico refugio un peccatorum, sarei cattiva, però all'inizio la lista del patrimonio culturale e naturale, c'erano i due volé, quello per i beni culturali tipo pittura, architettura, scultura e quello per i beni naturali. Il primo bene naturale iscritto, mi ricordo, fui io responsabile in grande parte di questo dossier fu l'arte rupestre della Val Camonica, fu la primissima cosa, e il secondo bene iscritto fu il cenacolo di Leonardo da Vinci, quindi le due cose italiane le prime. L'Italia ha talmente tante tante cose che da un po' di tempo, ogni volta che c'è l'Assemblea Generale del Centro del Patrimonio Mondiale, l'Italia stessa decide di ritirarsi o di non presentare candidature perché di per sé stessa non farebbero una piega, però dal punto di vista di una giusta ripartizione geografica, e nel sistema di queste convenzioni la ripartizione geografica dovrebbe avere un certo peso, fanno sì che l'Italia si deve tirare un po' indietro. Quindi direi, dal punto di vista del contenuto dell'oggetto non ci sono problemi, dal punto di vista dell'iter burocratico mi sembra molto molto difficile perché ci sono le forche caudine prima del Ministero della Cultura, poi del Ministero degli Esteri, poi delle varie commissioni, eccetera, eccetera. E poi queste convenzioni mi lasciano un po' perplessa perché poco dopo la lista del patrimonio mondiale, quello di cui si parla, a cui potrebbe aspirare questo parco, c'è stata anche un po' più tardi, nel 2002 se non mi sbaglio, la lista del patrimonio immateriale e quella è stata una manovra puramente politica per compiacere i paesi del Terzo Mondo, i quali giustamente hanno detto, voi europei detenete la più gran parte dei beni del mondo, ma come possiamo anche noi fare riconoscere i nostri beni, il nostro patrimonio, la nostra tradizione, che sono altrettanto significativi nel mondo? E allora, per compiacere questi che non avevano tracce visibili come le nostre, si è cominciato a stabilire una lista per la quale i criteri erano estremamente difficili, perché sa, quando uno dice, fa parte della mia identità culturale, che cos'è, la piuma dell'indiano o la veneri di Samutrasha, da un altro lato, oppure, come aveva detto uno del Sudan, l'eccisione delle ragazzine, fa parte del loro costume, cioè se si arriva lì, si arriva n'importo, non importa dove, per esempio c'è stata ora, mi sembra, la pizza napoletana, la dieta mediterranea, le patate fritte del Belgio, allora a questo punto mi sembra che non sia una cosa molto seria e non voglio scoraggiarvi, perché la prima convenzione, quella del 94, se non mi sbaglio, è ancora molto valida, dal punto di vista invece delle ricadute sul territorio, è un'etichetta che ha ancora un certo valore, un certo significato. L'UNESCO è stato confrontato a grandissime difficoltà, soprattutto da quando ha riconosciuto l'esistenza dello Stato della Palestina. Secondo una legge di Bush, torno un po' indietro, ma è interessante saperlo, secondo una legge stabilita da Bush, ma da Bush padre, una legge che è diventata costituzionale, ogni Stato, organismo nazionale o internazionale che riconoscesse l'esistenza dello Stato della Palestina non poteva ricevere più nessun contributo da parte degli Stati Uniti. Quindi l'UNESCO si è visto tagliare del 25% il contributo a quello che si chiama il programma regolare, cioè le attività di funzionamento. Quindi questo ha reso la situazione molto molto difficile e anche, direi, i programmi impoveriti, perché i programmi hanno bisogno di finanziamenti. Quindi le ricadute sul terreno, invece, ancora dal punto di vista della Convenzione e dell'etichetta UNESCO nei siti o nei monumenti, sono anche abbastanza valide, al punto tale che quando a Grigento hanno cominciato a cementificare dappertutto c'è stata proprio una minaccia formale da parte dell'UNESCO di togliere questa etichetta, che non significa niente dal punto di vista finanziario, non ci sono contributi. C'è soltanto questo riconoscimento e degli impegni che si prendono. Quindi ricadute di pubblicità, direi, di un certo prestigio e soprattutto però dell'impegno e della coscienza della nostra identità. È il discorso che faceva prima Annalisa. L'opera d'arte non è l'opera, quella che si vede, antica e moderna. È quella che si fa, che si costruisce facendola, inventandola. E reinventare il parco, rivederlo in una dimensione mondiale, questo potrebbe essere una cosa molto interessante per i giovani, per i meno giovani, per noi che siamo attaccati a questi luoghi, per il professor Bigeri che è andato dappertutto col suo babbo nelle stradine, nelle foreste. Neviottoli, sì, neviottoli si andava. Quindi io direi attenti al modo di procedere, perché le tappe sono pesantissime, perché la burocrazia di una istituzione come le Nazioni Unite, quindi l'UNESCO, è la burocrazia di uno Stato moltiplicata per 196 Stati, perché tutti vogliono metterci la sua parola. Il principio della democrazia, alla quale si crede molto e si difende, è che ogni Stato ha un voto, San Marino ha un voto come gli Stati Uniti. Quindi tutti hanno qualcosa da dire. Questo però crea a un certo momento anche una grande cacofonia. Rimane questa visione, questa visione di un mondo migliore, di una pace nello spirito degli uomini, fatta attraverso la comprensione, il dialogo delle culture, la bellezza, la tolleranza reciproca. Però poi ci scontriamo con le realtà di fronte alle quali viviamo tutti e la realtà è molto dura. Quindi bravi per questi che hanno preso questa iniziativa. Mi parlavano anche non soltanto del Parco Casentinese, ma anche di qualcosa intorno a Porciano come memoria dantesca, se non mi sbaglio. Qualcuno quindi mi parlava di questa idea. Io sono a disposizione per cercare di pilotare e di evitare un po' gli scogli più difficili e più duri. Per questo si parlava anche dell'archivio storico della diocesi di Arezzo, dove sono contenuti dei documenti, per esempio, di Carlo Magno. Insomma, il territorio della provincia di Arezzo, come tutta Italia, è ricchissimo di questo tipo di iniziative. Io direi di proseguire allora il nostro percorso. Abbiamo parlato di bellezza, andiamo a vedere uno dei posti più belli qui all'interno del comune di Bibbiena, ovvero il santuario di Santa Maria del Sasso. Tutto è nato con l'apparizione della Madonna nel 1347, ma i primi 100-150 anni le cose andarono un po' più ad agio. Però un avvio forte fu preso con l'avvento dei Dominicani, 1468. Pensate che in 40 anni loro hanno trovato qui poche costruzioni. Praticamente c'era una cappella, una chiesetta, c'era un dormitorio, un ospizio, una specie di piccolo ospedale, ecco così, basta. E in 40 anni hanno costruito gran parte di quello che noi oggi vediamo. Il santuario completamente, come oggi, che fu consacrato nel 1507. E anche il resto, ho preso questo chiostro e andarono avanti abbastanza svelti i lavori. Tutto è partito da un miracolo, un miracolo importante, no? Sì, un miracolo della Madonna che apparve a questa bambina di Bibbiena, Caterina, di 7 anni, che ricevette dalla Madonna due cose. Un messaggio, purezza e amore di Dio. E poi dei baccelli che la sera furono trovati pieni di sangue. La gente rimase spaventata di questo fatto, che però lo l'anno dopo fu l'anno della grande peste, 1348, perché dappertutto c'era moria grande di persone. Bibbiena e dintorni, nessuno fu contagiato dalla peste. Quindi pensarono che la Madonna avesse dato un segnale, una sciagura che sarebbe arrivata, ma dalla quale avrebbe protetto il luogo dove lei era apparsa, dove infatti era venuto. E quindi fu fatta su la prima cappellina vicino al massimo, la chiesa più grande poi con l'inmasso messo dentro questa chiesa, il primo affresco di Bici di Lorenzo fatto nel 1435-1440, la Madonna del Sasso. E poi dopo pian piano venne fuori, dato che ci fu un incendio nel 1486, distrusse completamente tutto, rimase intatta solo la Madonna del Sasso, venne fuori subito il nuovo santuario che lo vediamo adesso, che verrà poi ripreso da in seguito. E fu consacrato, come prima dicevole, nel 1507. E poi tutto il resto venne completato nei primi 50 anni del secolo XV, compreso il chiostro. Sopra c'è la grande sala della biblioteca chiamata delle Colonne, oggi denominata Sala di Padre Cordovani, che è un altro personaggio molto legato a questo luogo, vedremo per esempio tra poco il grande cardinale Dovizi, che è la figura, possiamo dire, più illustre di Bibiena, che era molto attaccata al santuario. Si dice, almeno non so dove l'ho letto, che avrebbe voluto costruire un camminamento da Bibiena coperto, proprio per i fedeli, per facilitare l'accesso al santuario. Poi lui è morto prima e questo non è avvenuto. Padre Giovanni, ma ci può spiegare, raccontare anche quella che è la devozione e l'attaccamento di oggi nei confronti appunto della Madonna del Sassi? Ma devozione e l'attaccamento oggi, sapete, è un po' esplosa ancora di più per il fatto di internet, per cui ci capita di sentire gente da lontano, da fuori, da altre nazioni che chiedono notizie, chiedono ospitalità. Se è possibile un minimo di ospitalità lo diamo, perché si vengono gruppi organizzati per un fine settimana, un ritiro, conferenze che si fanno, eccetera. E continua anche l'attenzione giù alla sede della Madonna del Buio, chiamata così perché quella statua della Madonna, che fu fatta un po' dopo, dopo che già c'era la devozione ufficiale a Madonna del Sasso, famoso miracolo della statua che fu donata a Bibienesi e che invece è tornata da sola qua giù, senza voltare le spalle a Bibiena, lo dico qui davanti al sindaco perché si conterà volentieri questa cosa, e che tuttora ha un'attenzione fortissima. Questo è il terzo gioiello del Casentino, di solito si parla Camaldoli e Laverna, Camaldoli e Laverna. Ah, ma qui c'è un'altra aria, qui c'è un clima straordinario, qui c'è... probabilmente perché Laverna ci darà anche un po' troppo traffico, non lo so perché... Magari in certi periodi sì. Però è questo un po' il grande commento di tutti quelli che vengono dopo aver visitato anche Laverna e Camaldoli. E questo fatto ha portato il Vescovo, il fatto di Camelda e Laverna, a designare in Casentino le due chiese come sede di giubileo. Se non che, siccome posso dirla io questa cosa... Sì, infatti gliela volevo chiedere, è l'ottavo centenario... Sono 800 anni da che è nato l'Ordine Domenicano, dicembre 1216 e poi anche gennaio 1217, due interventi del Papa per l'approvazione, c'è l'ottavo centenario. Allora in questa occasione il superiore generale aveva chiesto al Papa se si... e Papa ha concesso come sede di giubileo tutte le chiese del mondo dove sono i Domenicani. Nella Dioci d'Arezzo c'è solo questa, purtroppo San Domenico d'Arezzo non ci sono più i frati e quindi quella non è sede di giubileo. Un giubileo che è iniziato prima ancora, 7 di novembre, finirà dopo, cioè il 21 di gennaio. È un pensiero per le monache che purtroppo qui, venute all'inizio del Novecento da Lucca, una grande comunità che adesso è ridotta al minimo. Tra l'altro anche qui c'è una bella storia, no? C'è in corso una causa... L'ultima che poi è superiore a più di 70 anni è stata qui, no? Sor Petra Giordano, c'è la causa della beatificazione. Io chiederei al Sindaco, farei un po' di domande su alcuni argomenti caldi che hanno caratterizzato il dibattito pubblico in Casentino e non solo all'interno del Comune di Bibbiena. Bibbiena al suo interno ha un ospedale, l'ospedale del Casentino. Recentemente è stata decretata la chiusura del punto nascita, è una decisione sofferta e anche contestata, insomma. Qual è la motivazione che vi ha portato a questa scelta? No, non è che la scelta l'abbiamo fatta noi. Ad avvallarla in maniera così poco belligerante, diciamo così. No, non è anche quello secondo me perché questa è una diatriba che va avanti da diversi anni. Come sappiamo c'è una legge che dice che devono essere chiusi, non hanno motivo di essere punti di nascita che hanno meno di 500 parti all'anno. L'ospedale di Bibbiena è andata avanti in deroga per tanti anni a questa norma, se non che negli ultimi anni è arrivata negli anni scorsi ad avere circa 300 parti cercando di andare a reperire, diciamo così a tirare le parti orienti anche da fuori del territorio del Casentino, se non che negli ultimi anni è venuto meno questa ricerca al di fuori del Casentino. È calato il numero delle nascite in generale in Casentino come nel resto, in tutto il resto del territorio nazionale. siamo arrivati nell'ultimo anno ad avere 173 parti. Questo chiaramente rimaneva difficile continuare a sostenere la permanenza di questo punto nascita. Anche perché poi ci sono state anche notizie a livello nazionale di situazioni in cui sono successe morti di bambini o di parti orienti in ospedali anche più grandi, ma questo ci ha fatto rivedere un po' la nostra posizione assolutamente ostile a questa decisione, dico noi a livello di sindaci del Casentino. Allora quando ci siamo resi conto che probabilmente questa era una battaglia che non ci poteva vedere più vincenti, quello di far sopravvivere il punto nascita, abbiamo deciso di avviare un percorso, una trattativa, una vera e propria trattativa con l'azienda, con la regione, perché si accettasse dove si poteva accettare la chiusura del punto nascita, ma dove si fosse la garanzia della permanenza del nostro ospedale, di tutti gli altri reparti e l'efficienza di queste attività ospedaliere anche in assenza del punto nascita. Questo quindi ha fatto sì che siamo arrivati ad un accordo, a siglare un patto dove dal primo di giugno si sarà chiuso il punto nascita, ma contemporaneamente sono state aperte delle nuove attività in ambito chirurgico e in particolare con nuove attività ambulatoriali specialistiche e una cosa importantissima, il potenziamento in modo importante e sostanziale dell'emergenza urgenza, quindi pronto soccorso 118 e quindi ci siamo, diciamo, riteniamo garantiti comunque il mantenimento dell'ospedale in efficienza. Naturalmente se l'azienda, la regione manterrà queste promesse, questi patti, io da questo punto di vista vigilerò perché questo avvenga e non mantenga la promessa. Sulle altre due temi che sono strettamente collegati, nell'ultimo anno l'unione dei comuni del Casentino ha vissuto una fase travagliata, il comune di Bibiana non ne fa parte, però non ha mai manifestato la propria scetticità nei confronti del suo funzionamento, spesso definito un carrozzone. Collegato a questo tema c'è anche l'annosa questione delle fusioni dei comuni, adesso ci sono due ipotesi di fusione, o tre, quattro, insomma, ormai si è perso il conto, però comunque il Consiglio regionale ne affronterà almeno due, poi c'è una raccolta di firme. Su questi due aspetti che sono collegati anche molto tecnici, brevemente ci può dire qual è la sua posizione? La nostra posizione è nota, il comune di Bibiana nel 2010 ha deciso di non entrare a far parte dell'unione dei comuni. Quando c'è stata la trasformazione della comunità montana in unione dei comuni, noi abbiamo deciso di non aderire, perché e oggi devo dire sono ancora più convinto della bontà della scelta fatta, anche vedendo le ultime vicissitudini dell'unione dei comuni. Questo perché, a mio avviso, a nostro avviso, diciamo, l'unione dei comuni rappresenta una sovrastruttura, una struttura aggiuntiva a quella dei comuni che poi alla fine fa le stesse cose, raddoppia le attività, quindi con costi aggiuntivi senza creare un'efficienza maggiore. Quindi da questo punto di vista noi siamo sempre stati critici, non abbiamo aderito, a suo tempo abbiamo proposto anche la possibilità di fare servizi insieme facendo delle semplici convenzioni, senza bisogno di creare delle strutture aggiuntive, come fanno da altre parti. Però questa non è stata accolta la nostra proposta, quindi sono andati avanti gli altri comuni con questa attività. Noi abbiamo sempre ritenuto che la soluzione ottimale per amministrare il Casentino sia quella di una fusione e quindi una fusione complessiva dei comuni, creare un unico comune del Casentino, un territorio che è un territorio omogeneo, cioè ci conosciamo tutti da Stia, quantomeno fino a Rassina, abbiamo le stesse caratteristiche, il territorio uniforme, cioè ci spostiamo chiaramente senza percepire i confini comunali, non vedo perché nel 2015 non dobbiamo pensare di avere un'unica amministrazione, che non vuol dire perdere identità, campanilismi che poi alla fine sono anche belli ma che possono rimanere in ambiti diversi da quelli dell'amministrazione. Io quindi ritengo che la scelta, l'obiettivo finale per noi sia quello del comune unico del Casentino, anche per avere una forza politica diversa nei confronti delle amministrazioni. Però adesso sono in esame, sono più concreti. Sì, in esame, chiaramente nel 2012 c'è stato il referendum che è fallito per vari motivi, del comune unico, perché c'era con chiedeva su Bianna e Capolona, poi di fatto è stato un po' troppo, diciamo, caratterizzato dalla politica, dai partiti e quindi è stato fatto fallire. Oggi si è raggiunto la consapevolezza che comunque dobbiamo, la strada da percorrere quella, la regione toscana continua a dire e a sostenere e a incentivare, oltre che allo Stato, queste fusioni, ma di fatto in Casentino se ne parla, ma poi alla fine non si vogliono probabilmente, perché c'è stata una proposta che è quella di una proposta popolare di un comitato che ha raccolto le firme facendo la proposta di fusione tra Bibbiena, Ortignano e Chiusi della Verna, che è stata ostacolata proponendone un'altra che prevedesse Chiusi della Verna, Chietignano e Castelfo Cognano. Questo il modo per probabilmente non fare… Prima ancora c'era quella con A2, con Ortignano, che si era quasi arrivati a concluso. Sì, i due consigli comunali erano d'accordo, però poi subentrata a questo comitato che chiedeva di inserire anche Chiusi della Verna, ci sembrava logico aspettare e fare anche sì che entrasse Chiusi della Verna. Si formerebbe un comune comunque che è superiore a 15 mila abitanti, cioè è già qualcosa, non è quello che appunto ho spiegato del comune unico, ma sarebbe qualcosa già di importante. Però si sembra che veramente la volontà sia quella di non fare nulla, per vari motivi. Probabilmente si rischia di perdere dei posti di sindaci, di assessori e quant'altro. Però io credo che bisognerebbe guardare al bene del Casentino e non fare calcoli personalistici o politici, perché la Regione sta spingendo per le fusioni e poi alla fine però c'è l'idea che la forza politica, in questo caso il PD che amministra la nostra Regione, poi alla fine le fusioni cerchi di spingere laddove comunque sono vantaggiore, gli conviene di più. Probabilmente Bibiena non la considerano uno di questi comuni dove potrebbe avere vantaggio e ci sembra che qualcuno in Regione lo sta sicuramente ostacolando. Io credo che, senza fare nomi, penso che dovrebbe essere innanzitutto chiesto il parere ai cittadini in questo caso. Se c'è una volontà popolare come quella che è stata espressa per esempio da questo comitato che ha raccolto veramente tante firme, non vedo perché non si debba far esprimere. Chiarissimo. Chiudiamo questa parentesi perché ci vorrebbero un ciclo di trasmissioni solo su questo. Io andrei adesso da Marco Alfonsi che ha con sé una domanda per qualcuno dei nostri ospiti. Sentiamo. Allora sì Luca, ad inizio puntata il presidente Luigi Bigeri faceva riferimento al mondo dei giovani legato ovviamente al lavoro e qui in proposito abbiamo il professor Pierluigi Bargellini, professore dell'ITIS. In particolare del professionale, tutto il corso del professionale che fa parte dell'ITIS comunque. Che ci vuole raccontare di un progetto che lega l'istituto tecnico industriale di BBN Enrico Fermi al mondo del lavoro, vero? Certo, sì. Allora noi cerchiamo di, con questi progetti che ormai sono dieci anni che facciamo ogni anno, un nuovo progetto, di sviluppare nei giovani, cioè l'intuizione, il saper partire da un'idea, da uno schizzo, fatto in un fogliaccio magari, arrivare a un prodotto che realizziamo, che funziona e poi magari partecipando anche a delle gare nazionali tipo Inv Factor organizzato dalla Comunità Europea del CNR a Roma, magari anche vincerle queste gare. Quindi ottenere un risultato partendo da un'idea, sviluppando la creatività dei giovani e trasmettendo più che altro la nostra passione, la passione per questa materia e l'entusiasmo. Abbiamo fatto in particolare vari progetti tipo il seggiolino Salvabimbi che ha vinto appunto uno di questi premi, il tripla sicurezza che riguardava l'alcol, impedire cioè a chi è in stato di ebrezza di usare l'auto. E quest'anno abbiamo un nuovo progetto che verrà presentato presso l'ITIS nell'Aula Magna entro la metà di maggio. Un progetto in anteprima? In anteprima. È un robot che dovrebbe, dico dovrebbe ma già funziona, assistere gli anziani nella vita quotidiana, nel prendere le medicine. Anziani che hanno problemi di memoria, sono soli, hanno problemi di manualità, non riescono a scegliere, magari le medicine prendono molte pasticche in orari diversi, rischiando di prendere magari una doppia dose che può essere anche diciamo pericolosa e quindi il robot gli ricorda il momento che le deve prendere, le fa cadere per esempio in un bicchierino dal caffè, riempie un bicchiere vicino di acqua e quindi l'anziano riesce a prenderle. Ma questa è solo una delle tante funzioni che fa, un'altra è quella di, per esempio, sorvegliare la casa per eventuali fughe di gasse, oppure metano, oppure monossido di carbonio. Funziona da sistema antiintrusione. Ha un cassettino che allora prestabilita si apre e ricorda con degli allarmi luminosi e sonori alla persona anziana che si deve fare magari la glicemia, oppure misurare la pressione. Oppure in questo cassettino ci potrebbero essere contenuti gli occhiali, il telefono cellulare di quelli col telesoccorso. Inoltre fa altre funzioni. Funziona da lampada d'emergenza in caso va via l'Enel, c'è un UPS e quindi il dispositivo genera energia ugualmente e illumina la stanza. E allora in bocca al lupo per tutti i vostri prosetti. Esatto, lo presenteremo comunque anche questo entro il 13 maggio a Infactor e per l'edizione 2016 e a Maker Faire che è una mostra internazionale alla quale abbiamo già partecipato nel 2013 di tutti gli inventori che vengono da tutta Europa. Speriamoci che riusciamo ad andarci. In bocca al lupo. A te la linea Luca. Grazie per questa bellissima... Grazie e complimenti per questo bellissimo progetto. Noi ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria. Bentornati in diretta dal centro creativo Casentino di Bibbiena. Adesso io vi proporrei l'ultimo straccio del reportage che sarà visibile integralmente sabato sera alle 21.15 realizzato appunto a bordo di un minivan con il nostro sindaco Daniele Bernardini. Andiamo a conoscere un'altra delle eccellenze di questo territorio, il gruppo degli sbandieratori di Bibbiena. In questo territorio, nella nostra provincia, innanzitutto abbiamo una bellissima realtà di gruppi di sbandieratori e per quantità e per qualità. Pensiamo ad Arezzo, San Sepolcro, ecco, noi siamo di questa scuola, Scuola Aretina. Il gruppo nasce il primo di settembre 1981. Proprio in questa piazza, proprio in questa piazza, otto ragazzi, adolescenti, fanno questa esibizione durante una visita di alcuni comuni austriaci in viso di Bibbiena, fanno questa prova, hanno successo, decidono andare avanti e sono arrivati, sono passati 35 anni, chiaramente. Il gruppo è andato avanti e si è allargato molto. Oggi è un gruppo che conta qualcosa come 55-60 persone, molti giovani, è vero, abbiamo tanti giovani perché abbiamo una scuola di allievi, una scuola di caretti, chiaramente, poi c'è il gruppo adulti e il gruppo dei nostri musici. Il percorso del nostro gruppo è quello che hanno fatto anche i nostri colleghi, Arezzo, Arezzo e Sansepolcro e altri a livello italiano. Un percorso che ci ha portato in tantissime piazze italiane ed estere, chiaramente, e con tante soddisfazioni. A proposito di soddisfazione direi che le maggiori vengono sicuramente da quello dei ragazzi. Quando si va in piazza con i nostri allievi, veramente, tantissima soddisfazione. particolare soddisfazione l'abbiamo avuto in Germania, rappresenta anche il nostro sindaco due anni fa, quando ci hanno invitato, la federazione tedesca, a partecipare al loro campionato ufficiale, come rappresentanza soltanto di ragazzi. Non soltanto abbiamo vinto le nostre categorie con i ragazzi, ma siamo entrati anche sul podio perché abbiamo messo dietro anche i gruppi adulti tedeschi. Una grossissima soddisfazione. che i nostri amici, colleghi tedeschi, sarebbero certi risparmiati. Ecco, un'attività comunque che viene portata avanti ogni settimana, con allenamenti, con l'affinamento delle tecniche. Quali sono poi anche le differenze con gli altri gruppi nel nostro territorio? La nostra scuola è quella a retina, perché siamo orgogliosi di farne parte. Sappiamo che come scuola di bandiera, oltre a quella a retina, abbiamo quella faentina, abbiamo la senese e la ferrarese. Noi siamo per la retina, che sicuramente è la più antica e sicuramente quella più militare rispetto alle altre scuole. Quindi ci sono delle differenze anche nelle dimensioni, nei pesi delle bandiere. Esattamente. Mentre la nostra scuola, la scuola retina, impone delle bandiere con un peso che siamo vicino al chilo. Nelle altre scuole, soprattutto la faentina, sono bandiere molto più dinamiche, molto più leggere. Puntano molto a un gioco di bandiera veloce, anziché al lancio molto in alto, cosa che noi invece riusciamo a fare con le nostre attrezzature. Recentemente la qualità di questo gruppo è stata riconosciuta anche a livello internazionale. Infatti la sede di una federazione dei sbandieratori a livello internazionale avrà sede proprio a Bibbiena. Sì, grandissima soddisfazione. La sede, a proposito, grazie anche all'amministrazione, al nostro sindaco che ci ha dato la mano in questo. Com'è nato? È nato nel 2011, anzi nel 2012, primo convegno internazionale sull'arte di maneggiare l'insegna. Abbiamo organizzato questo convegno, hanno partecipato i maggiori esponenti di questa arte, di questo gioco, per alcuni nello sport, i presidenti delle federazioni nazionali e internazionali. L'obiettivo di questo convegno era quello di cercare unità, anche perché sì, siamo bravissimi, siamo in tutto il mondo, ci conoscono in tutto il mondo gli sbandieratori italiani, ma a livello nazionale, tantomeno europei, non siamo riconosciuti a livello giuridico. Questa è una cosa importante. Con questo convegno siamo arrivati a trovarsi d'accordo e creare questa confederazione a livello europeo. Quindi ci saranno le federazioni italiane, in Italia si parla di quasi 40 mila persone, quindi è una bellissima realtà, quella tedesca, quella belga, quella austriaca, Svizzera, la Svizzera non è europea, comunque è a livello di confederazione, comunque farà parte anche loro di questo meccanismo. E la sede sarà Bibbiena, i locali della ex pretura, orgogliosi come gruppo e anche come bibbienesi. Noi ritorniamo in diretta, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato, a me non resta che ringraziare gli ospiti che sono stati con noi questa sera, al sindaco di Bibbiena, Daniele Bernardini, alla presidentessa del centro creativo Casentino, Annalisa Baracchi, grazie per l'ospitalità, grazie al professor Luigi Bigeri, già presidente dell'Istat e presidente attuale del polo universitario Aretino e alla dottoressa Lola Poggi dell'UNESCO. Grazie. Vi ricordo che sabato alle 21.25 sarà possibile vedere il nostro reportage realizzato a bordo del minivan con il sindaco Daniele Bernardini, questa puntata sarà visibile anche su YouTube e a me non resta che rinnovare l'appuntamento con un sindaco a bordo per giovedì della settimana prossima alle 21.20 saremo in Valdichiana dalla città di Castiglion, Fiorentino. Grazie per essere stati con noi e arrivederci. Grazie a tutti.